Lions uniti al Teatro Ponchielli di Cremona dove si è tenuto un incontro formativo tra gli officer distrettuali e i Lions Club del territorio, Casal Buttano, Casal Maggiore e Vescovato. Organizzatori dell'evento il vicepresidente del Teatro Ponchielli, Franco Mazzini, e il presidente della circoscrizione terza zona C, Alberto Bernini, i quali hanno ideato questo format per avvicinare le cariche distrettuali agli omologhi di ciascun club, riducendo in questa maniera le distanze da un punto di vista logistico e favorendo anche il dibattito all'interno del sodalizio. L'incontro, al quale hanno partecipato una sessantina di persone, un numero importante, decisamente ha avuto inizio con una visita guidata al retropalco del teatro, un luogo che di solito è poco conosciuto, in quanto qui vi si trovano sarte, falegnami, pittori, coi relativi tavoli di lavoro e spazi adibiti a vere e proprie botteghe artigianali. In seguito i soci Lions sono stati accompagnati verso il punto più alto del Ponchielli dove i tecnici regolano i drappi e le scenografie, che poi, una volta passati per il loggione, sono scesi in platea per una visione d'insieme della struttura. La formazione ha avuto luogo nel ridotto del teatro con una serie di interventi dei responsabili distrettuali in merito agli argomenti principali che riguardano ciascun club, service, membership e leadership, in particolare col ruolo degli officer sottolineato e le loro funzioni all'interno di ciascun club. La serata si è poi conclusa con un rinfresco che ha consentito ai partecipanti di scambiarsi idee sugli argomenti trattati durante la formazione stessa.